Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Questa notte è perfetta per fare il mio classico gioco, ormai diventato un must, ossia chiamato Pesca la carta motivazionale, ossia faccio un breve riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti. Ho questo mazzo di carte, ok, pieno di messaggi motivazionali, frasi motivazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Io pesco una carta, leggo il messaggio e se sono d'accordo la carta resta su questo tavolo. Se non sono d'accordo la carta svola e va a finire in teoria quasi sempre dentro la scatola delle Timberland vuote, che è la scatola vuota che è là. Dico solo che finora solo una carta ha meritato il mio rispetto, ed è questa qua, ed è l'unica che è rimasta sopra il tavolo, che è questa, ossia accetto la mia unicità, perché effettivamente dopo molti anni ho imparato quasi ad accettarmi, infatti c'è un quasi però sta carta l'ho messa qua perché non si sa mai, con la speranza, vediamola così, però anche perché non ce l'era nessuna sopra. Adesso vediamo, ne pesco un'altra e vediamo se la carta svola o se non svola. Intanto mescolo, tipo cartomante, vediamo. Allora, posso lasciare andare il passato e perdonare tutti. La carta è questa, si legge, sì. Il messaggio dietro è, libero me stesso e gli altri dalle ferite del passato, sono liberi di vivere nuove, grandiose esperienze e lo sono anch'io. Dovevo essere sincero che sta carta mi mette un po' in difficoltà. Mi mette un po' in difficoltà perché posso lasciare andare il passato. No, non ce la faccio. Purtroppo non ce la faccio. È più forte di me. Ma non dico solo un passato recente, proprio. Io sono una persona che non riesce a lasciare andare persone, cose, situazioni, momenti, emozioni. Alla fine i volti sbiadiscono, però restano sempre le sensazioni, quegli stati d'animo, ok? E faccio molta fatica a lasciare andare queste cose. Ricordi belli e ricordi brutti. Il che non vuol dire che sono uno stalker o cose del genere, non sia mai. È tutto un discorso che faccio nella mia testa, nel mio cuore. Molte cose per me sono per sempre, ok? Difficilmente le faccio andare. Sarebbe bello riuscire a tenere solo le cose belle, ok? Però non è possibile. Molti ce la fanno. Io purtroppo devo prendere il pacchetto completo. Devo imparare, infatti, a cercare anche ricordi negativi, ok? Cercare di liberarli. Liberare quel senso di malinconia. Perché anche in tutti i ricordi che abbiamo, anche in quelli brutti, c'è sempre qualcosa da imparare. E io dovrei cercare di ridurli al minimo, ok? Ridurli al minimo. Ridurre al minimo quella malinconia e tenere solo l'esperienza che comunque insegna. E perdonare tutti. Io penso che sia giusto perdonare. Non tutti, però. Perché ci sono persone che ci hanno fatto male a senso unico. Sicuramente ne avrete incontrate molte nella vita. Di persone che, per il solo gusto di provocare dolore, hanno fatto male. Ecco, quelle persone non vanno perdonate, ok? Ne avrete conosciute nell'arco della vostra vita. Che non siamo tutti cristiani, porgi le altre guance, cose del genere, no. A volte è giusto tagliare. Però, spesso e volentieri, ci troviamo di fronte, secondo me, a situazioni in cui pensiamo che ci abbiano fatto un torto. Però anche l'altra persona magari pensa che noi abbiamo fatto un torto, ok? E dopo la verità è sempre una cosa molto strana. A seconda di chi la racconta, di chi la dice, è vera. È questo fatto. È vera. Il problema è che a volte vogliamo, piuttosto di pensare di aver sbagliato, vogliamo pensare che hanno sbagliato gli altri. Quindi, questa cosa del perdonare, bisogna perdonarci e perdonare gli altri. Ma anche, soprattutto, perdonarci. Per essere sempre stati convinti di essere dalla parte del giusto. Perché a volte, ripeto, la verità, le colpe, pensiamo di non averne, ma in realtà ne abbiamo anche noi, ok? Libero a me stesso e gli altri dalle ferite del passato, sono liberi di vivere nuove e grandiose esperienze. È vero, cioè, tutte le persone che ho conosciuto sono libere di fare quello che vogliono, chiaramente. Ripeto, il discorso malinconia, cioè, nostalgia è proprio un discorso mio, che tengo dentro la mia testa e dentro il mio cuore. Libero anch'io lo sono fino a un certo punto, perché quando hai la nostalgia dentro, al posto del sangue, ok? Hai la malinconia. Non è semplice, non è semplice per niente. Quindi, la carta, sinceramente, mi piacerebbe tanto tenerla sopra, però per ora non sono ancora d'accordo. Quindi, l'ho appena buttata via, però un giorno sta carta la riprenderò in mano. E buonanotte.